Hello guys, I am Phil, ma qualcuno mi conosce anche come Virex e benvenuti in questo nuovissimo video e in questa nuovissima rubrica. In realtà non è così nuova perché già qualche tempo fa vi avevo accennato l'idea di portare ogni inizio del mese dei video consigli riguardanti i manga in uscita nel mese corrente, quindi in questo caso febbraio 2022, che secondo me meritavano una certa attenzione. Ovviamente tutto quello che viene citato nel video, quindi soprattutto le date di pubblicazione, sono veritiere ad oggi data di registrazione. Un domani sappiamo che purtroppo ci potrebbero essere dei contrattempi e degli imprevisti che potrebbero far slittare le date. Quindi mi raccomando, state attenti alle pubblicazioni perché potrebbero esserci dei cambiamenti. Se ci fossero comunque o ve lo scrivo nei commenti oppure, un consiglio importante, in descrizione trovate una serie di link quali Instagram e Telegram. Mi raccomando, seguitemi anche lì perché alcuni aggiornamenti magari li trovate direttamente su quelle piattaforme. Ma bando alle ciance, iniziamo questo video dove andiamo a menzionare 7 manga in uscita a febbraio 2022 che meritano la nostra attenzione. Andando in ordine cronologico partiamo con The Climber, un'opera edita dalla J-Pop nel 2011 e in uscita il 2 di febbraio in edicola, fumetteria, libreria, negli store online, con tutti e 17 i volumi dell'opera. Parliamo di un manga seinen che adatta il romanzo L'Uomo Solitario di Giro Nitta dove si narrano le vicende di Buntaro, questo studente con la passione per il climbing e con l'ossessione di voler scalare per primo la perete orientale del K2. Stiamo parlando comunque di un'opera estremamente apprezzata anche in Giappone tant'è che gli è stata attribuita l'Excellent Prize al Japan Media Arts Award del 2010 e il premio come miglior seinen al Prix Mangawa Awards del 2011. Esattamente un giorno dopo, quindi il 3 di febbraio, per tutti i fan del franchise Star Wars uscirà Star Wars Rebel, nuova serie edita da Panini Planet Manga che va ad adattare l'omonima serie animata a cavallo tra il terzo e il quarto episodio della saga cinematografica di George Lucas e che attualmente in Giappone conta tre volumi. 10 febbraio invece è data di debutto della nuova opera del Sensei Takiro autore di storie quali Akamega Kill, Akamega Kill Zero, Akamega Kill Innovo Aga Crash ovvero Demon Slave, questo nuovo hacky fantasy targato anche in questo caso Planet Manga e che tra l'altro è stato annunciato a Lucca Comics and Games di quest'anno. Parliamo di un'opera ambientata in un mondo parallelo dove dominano delle creature mostruose e dove l'unica possibilità di salvezza è legata all'utilizzo di pesche, dove per pesche credo si intenda proprio il frutto, che regalano dei poteri straordinari alle donne umane. In Giappone siamo già al nono volume e per chi mi conosce bene e conosce il mio amore incondizionato per Akamega Kill, una delle opere che mi ha reso la vita più difficile per quanto riguarda il suo recupero e che adesso mi sta rendendo la vita difficile anche per Akamega Kill Zero potrei immaginare l'hype per quest'opera che sicuramente è una di quelle che attendo di più per questo febbraio 2022. Per gli amanti delle zozzerie però, se un ecchi non vi dovesse bastare, il 10 di febbraio Magic Press ci regala Beach Docking, un'entai uscita come volume unico che si struttura su una serie di racconti brevi dove le protagoniste sono delle ragazze seducenti ma imprevedibili e smalizziate. Quindi mi raccomando, andateci piano. Altra giornata particolarmente interessante per le nuove uscite è il 16 febbraio che vede ben due opere da tenere in considerazione, ovvero Horror Theater e la nuova edizione di GTO, cioè la Deluxe Black Edition. Per tutti gli appassionati dell'horror ovviamente non potete farvi sfuggire l'opera del Sensei Kazuo Umezu, uno dei maestri che ha rivoluzionato il genere e che è stato fonte di ispirazione per un altro grande maestro dell'horror quale giungito. Parliamo comunque di un'opera breve, conta solo due volumi, il secondo in uscita ad aprile, anche in questo caso abbiamo una struttura a racconti brevi dal forte impatto psicologico e che vede protagonista una giovane ragazza e uno strano bebè. Anche questo particolarmente interessante lo attendo. Per quanto riguarda GTO parliamo di un manga shonen scritto e disegnato dal Sensei Toru Fujisawa e pubblicato per la prima volta sulla rivista del weekly shonen magazine di Kodansha tra il 96 e il 2002 per un totale di 25 volumi. All'opera sono stati poi adattati una serie anime da 43 episodi, due serie tv live action, diversi special, un film e grazie all'opera di Dain It torna a noi in questa nuovissima edizione. Sicuramente un'ottima opportunità per tutti i fan della serie ma soprattutto per chi non ha mai avuto modo di confrontarsi con le vicende del nostro Onizuka, questo ex teppista che decide di cimentarsi nel ruolo di insegnante seppur in un ambiente non privo di tentazioni. Da menzionare inoltre il fatto che già il 25 di febbraio sarà disponibile il secondo volume di questa nuovissima Deluxe Black Edition. Concludiamo il tutto il 23 di febbraio con un nuovo manga shoujo edito dalla Star Comics ovvero Rosen Blood in uscita in edizione regular e in edizione limited. Un applauso sicuramente alla Star Comics che punta nuovamente su un'opera shoujo dando maggior spazio a questo tipo di prodotto. Parliamo comunque di un'opera tutta al vampiresco che vede i protagonisti quattro manzi dei denti appuntiti e una dolce ragazza divenuta la loro cameriera. In Giappone siamo già al quarto volume, insomma una storia tutta da scoprire e che secondo me merita uno sguardo. Detto questo signori e signore il video finisce qui, io ho cercato di spaziare un po' con i generi per offrire a ognuno di voi un manga adatto per questo febbraio 2022, quindi spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato di aiuto, quindi fatemi sapere nei commenti qual è l'opera che attendete di più, se ne avevate già puntata qualcuno, se invece questo febbraio non vi stuzzica alcun tipo di interesse, condividete il video con i vostri amici se vi va piacere e soprattutto se vi va iscrivetevi al canale perché mi sarebbe davvero di grande, grandissimo aiuto. Come dicevo all'inizio video mi raccomando date un occhio in descrizione per tutta una serie di link utili per le attività al di fuori di YouTube e nulla, io fino a un prossimo video, passo e chiudo.